Maestro Plessi, a tanti anni dalla sua ultima installazione qui a San Marco ne arriva un'altra, di che cosa si tratta? Dopo 20 anni esatte ho voluto fare un'installazione usando lo stesso luogo e gli stessi materiali di 20 anni fa. Ho inventato questa specie di grandi cascate d'oro, che sono un po' un grande omaggio che io faccio a Venezia. Per me Venezia è d'oro, la basilica di San Marco è fatta di mosaici d'oro. Io ho pensato che questi mosaici si potessero sciogliere e diventare delle grandi cascate. Poi durante la pandemia ho voluto aggiungere qualcosa di diverso, che segnasse questo momento differente e molto tragico della nostra esistenza. E ho fatto come un augurio, una specie di luce che arriva, molto diversa dalla fisicità delle cascate d'oro. È una luce immateriale che alla fine si compone la scritta Pax Tibi, grande come tutta la piazza. Credo che sia un augurio per una città che è stata ferita prima dall'acqua alta, poi dalla pandemia. L'oro è il colore di Venezia e quindi anche un messaggio di grande speranza in questo momento ancora particolarmente difficile. Io amo molto l'oro, sono grato anche a Dior che ha sponsorizzato tutto completamente questa grande mostra. E diciamo è il simbolo di una rinascita, io credo. La luce, la luce di queste cascate spero diano un po' di luce alla nostra vita, al nostro momento storico. I mosaici di Venezia continuano a vivere da millenni di fronte a quest'opera, che è un'opera invece altamente tecnologica e legata alle tecnologie del nostro tempo, per cui il passato e il futuro si incrociano e convivono perfettamente. Lei non è veneziano ma Venezia è praticamente la sua città. Io sono arrivato qui a 14 anni, non ho mai lasciato questa città. Io ho un emiliano molto squadrato, molto plastico, piano piano sono diventato invece fluido, elastico, mobile come la città. Io sono arrivato qui a 14 anni, non ho mai lasciato il nostro tempo,